Il nostro calcio è competente, ad alto ritmo, con la straordinaria carica del Commenti, aggiornamenti e curiosità con Andrea Sanna e Claudio Pani Il diritto di cronaca con Vittorio Sanna Il Cagliari a suon di gol, partita dopo partita, su Radio Supersound Non posso non prendere atto di quello che sta capitando in questo campionato per quanto riguarda il Cagliari di fronte alle ennesime difficoltà che i tifosi vedono nella squadra e rispetto a quelli che sono i sogni che i tifosi avevano quello dell'immediato ritorno in Serie A è chiaramente il frutto di tante delusioni accumulate negli anni che portano poi anche i tifosi a dividersi in due schieramenti una parte che continua chiaramente a lamentarsi e dobbiamo dire anche giustamente per quello che non viene reso ai tifosi stesso e l'altra con una seconda parte che pur essendo delusa guarda a quello che si fa nella speranza che possa dare un contributo positivo per riuscire a creare l'ambiente giusto perché ci sia una risalita è chiaro che questa divisione concettuale non è una divisione rispetto a quello che è il giudizio assoluto su quello che si è fatto in questo recente periodo tutti sono concordi e tutti sono uniti nel fatto che questo Cagliari non risponde a quello che i tifosi vorrebbero e che non risponde se volete al valore che la squadra ha dal punto di vista storico, dal punto di vista sociale per quello che esprime nell'ambito internazionale anche perché il Cagliari è vero che è tifato soprattutto da Sardi se quelli in Sardegna ma soprattutto quelli sparsi per il mondo ma è altrettanto vero che negli anni ha costruito anche tante simpatie in coloro che Sardi non sono e che guardano a Cagliari comunque dal periodo in cui era riuscito a conquistare lo Scudetto con la stessa simpatia. Sono passato gli anni, chiaramente quelli che hanno vissuto lo Scudetto sono sempre meno ed è anche da questo punto di vista che forse bisogna preoccuparsi di proiettare un'immagine positiva intanto c'è il campionato e in questo campionato lo stato della realtà dice la classifica che noi non siamo tra le prime nel momento in cui capita una cosa di questo tipo ci possono essere due atteggiamenti quello di arrabbiarsi e mandare tutti a quel paese oppure di tentare di trovare una soluzione di aspettare prendendo atto di quelli che sono i difetti di aspettare che ci possano essere dei miglioramenti ecco lo ribadisco sono due posizioni distinte sono due posizioni opposte ma il tifoso deve sapere comunque deve prendere consapevolezza che il tifoso che è ottimista o il tifoso che è pessimista non è un tifoso contro sono tifosi uniti dalla stessa delusione che devono trovare compattezza soprattutto durante i 90 minuti in quei 90 minuti devono dare tutto perché loro anche loro anche i tifosi danno un contributo notevole a quello che è l'ambiente intorno ad una squadra e credo che sia fondamentale da questo punto di vista prendere visione di come si fa quando si è ottimisti e come si riesce talvolta con l'ottimismo anche a trasformare le cose è chiaro poi le critiche ci stanno tutte le critiche devono essere fatte ma probabilmente ciascuno nel proprio momento e ciascuno nel proprio periodo ma ben con formazione e strategie per l'evoluzione del business ma bmanagement punto it per l'evoluzione del business ma 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 per